Si è riunito due giorni fa il Consiglio Comunale straordinario, convocato in Sud straordinario al Comune di Campobello di Licata, due i punti all'ordine del giorno, particolare attenzione comunque è stata data al punto riguardante la stazione di trasferenza. Praticamente la stazione di trasferenza ci ha coinvolti un po' tutti, anche perché all'unanimità dopo che si erano fatte due conferenze dei capi gruppo in cui si era deciso di preparare un ordine del giorno che poi è stato da tutti i consiglieri presso in considerazione, è approvato e votato all'unanimità perché un po' tutti non condividiamo che venga realizzata questa stazione di trasferenza in questo sito, anche perché c'è un sito appropriato alla zona industriale e quindi riteniamo opportuno, secondo il nostro parere, che venga fatta lì questa zona di trasferenza, anche perché non pensiamo sia opportuno realizzarla in un centro abitato dove c'è una strada che è poco idonea per il passaggio dei mezzi pesanti. Quindi su questa posizione, espressa dalla maggioranza, come ha detto Re, si è trovata la coesione di tutto il Consiglio Comunale? Non è stata espressa solo dalla maggioranza, è stata decisa da tutti insieme, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, e poi portata in Consiglio Comunale e quindi è resa pubblica e poi votarla in Consiglio Comunale tutti all'unanimità. Ma già era stato deciso in conferenza dei capigruppi da tutti, sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Anche un altro punto all'ordine del giorno era previsto, però è stato ritirato nel corso della seduta? Sì, è stato ritirato anche perché si è interpellata la famiglia del signor Carlo Gerogueli e la famiglia ha ritenuto opportuno che non fosse un momento idoneo per affrontare questo argomento, quindi si è pensato di discuterne in altro momento, non in questo contesto. Assessore, per quanto riguarda invece la situazione degli abbonamenti, cambiando argomento, gli abbonamenti per gli studenti pendolari, tutto è vicino alla soluzione, possiamo dire così, a Campobreo di Lecato? Ebbè, noi ci siamo attivati tempestivamente, cioè per domani infatti i ragazzi potranno ritirare l'abbonamento del mese di settembre, di questa settimana che rimane, poi la prossima settimana ci verranno spediti gli abbonamenti per ottobre. Purtroppo abbiamo chiesto un contributo del 20% alle famiglie anche perché la disponibilità economica al momento ci permetteva di, per avere gli abbonamenti pronti e non far affrontare in toto la spesa alle famiglie, di chiedere questo piccolo contributo. Però già domani si possono ritirare al centro polivalente.